Buona giornata, bentrovati, il nuovo nostro appuntamento con l'informazione sportiva, si apre una nuova settimana e siamo a lunedì 25 maggio 2020, allora vediamo insieme le principali notizie, vi ricordo sempre sul digitale terrestre per quanto riguarda Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che trasmette per il Nord Italia, per Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Trentino Alto Adige sul canale 95, per quanto riguarda invece il nostro web www.venetoglobe.com, ci potete seguire anche sull'app, scaricando l'app appunto per Android e per Apple e avrete le nostre notizie comodamente sul vostro cellulare, sul vostro smartphone. Andiamo a vedere subito le principali notizie per questo lunedì, per questa nuova settimana, che iniziamo parlando come di consuetudine oramai di calcio, il calcio che può riprendere, almeno così ci dicono, il Ministro Spadafora conferma le date del 13 e del 20 giugno prossimo, ma rilancia anche l'idea dei gol in chiaro, che potrebbe andare a complicare ulteriormente l'intesa trovata tra Lega e Sky. Il protocollo inviato con un giorno di anticipo prevede allenamenti ed incontri, ora la palla però passa al Comitato Tecnico Scientifico, mentre si parla o si riparla se preferite di campionato femminile che potrebbe riprendere a giocare da metà luglio per gli ultimi sei turni del torneo, con le calciatrici che giustamente vogliono e chiedono gli stessi protocolli degli uomini. Il calcio mercato, ne stiamo parlando anche e non solo a livello internazionale e nazionale, ma anche per quanto riguarda la nostra seconda parte regionale e provinciale, il calcio mercato rallenta, vi dicevo, per dare via alle gare, con una Juventus che farà molte rotazioni per andare avanti in tutte le competizioni dove deve gareggiare. All'Inter si parla di Lautaro, ma si parla anche di questo signore Cavani che spunta come pedina di scambio, pedina di arrivo in casa interista. Un mercato che si sviluppa anche per due tecnici in particolare, sono Allegri che vedete che potrebbe finire a Parigi al Paris Saint Germain, mentre Spalletti, l'altro tecnico italiano, sogna la Premier, però prima deve risolvere il contratto che ha ancora in essere con l'Inter di un anno. Il Milan di Pioli invece riparte dal Lecce contro cui proprio il tecnico debuttò sulla panchina rossonera. A Napoli ballottaggio tra i portieri, chi perde, chi perde la sfida, potrebbe andarsene l'anno prossimo, quindi è una lotta abbastanza infuocata. Alla Roma tutti in gruppo con il mister Fonseca che comincia adesso veramente a fare sul serio. A fare sul serio anche la Serie B, finalmente il caso del Benevento che ha tardato a ritrovarsi, aveva chiesto e voluto delle decisioni serie e pacate naturalmente con Pippo Inzaghi che ha sempre detto, insomma, se eravamo lì davanti, vogliamo stare lì davanti, concluderemo alla grande questo nostro campionato. Se il Benevento è ripartito quindi nella massima euforia, totale euforia e contentezza, beh invece lo Juve Stabia è nel marasma più totale, sia societario che di città per quanto riguarda lo sport, quindi c'è qualche problemino. A proposito di sport c'è il Presidente del CONI Malagò che ha fatto una richiesta, ieri l'hanno ripresa un po' tutte le agenzie di stampa, perché la richiesta è quello di un rinvio dei mondiali di Cortina al 2022, chiesto un posticipo di un anno perché un evento compresso non ha senso, ha detto Malagò. Gli ha risposto subito il Sindaco di Cortina che è d'accordo con Malagò perché così dice avremo la possibilità di organizzarci meglio e senza grande fretta. I mondiali del 2021 invece saranno in programma dall'8 al 21 febbraio. Il basket con una Serie A, che è stata la prima, la Lega del basket è stata la prima a decidere stop ai campionati e a dare delle linee e degli indirizzi giusti, seri e incanalati. La Serie A si sa dovrebbe prendere il via il 27 settembre, un campionato che non sarà più a squadre dispari ma a 18 squadre, Supercoppa che si giocherà dal 18 al 29 agosto e poi basket mercato perché anche nel basket iniziano i cambiamenti, gli spostamenti, i ritorni. In questo caso è un ritorno quello che vedete è Davide Moretti, tra l'altro ex giocatore della TVB De Longhi Treviso, in Serie A2 alla guida c'era Pillastrini che allenò appunto Davide Moretti, figlio d'arte Paolo Moretti il padre ex azzurro, eccolo qui, il giocatore ritorna in Italia dopo un anno di college in America e firmerà per una grande squadra italiana ovvero l'Olimpia Milano. Si va verso la ripartenza anche in Formula 1 da una rossa all'altra perché anche la maglia dell'Olimpia insomma può essere rossa, dalla rossa dell'Olimpia dicevo alla rossa della Ferrari senza respiro perché va a ritoccare la SF1000 in tempo per l'Austria, per il Gran Premio d'Austria di Svelte che dovrebbe far ripartire il campionato mondiale. Il reparto corsa della Ferrari è al lavoro in questi giorni, in queste settimane su musetto e su scatola del cambio e tra l'altro sono arrivati 20 cavalli dalla Power Unit. Andiamo sulla cronaca regionale, provinciale e locale e allora inizia la quarta settimana di allenamento per il rugby Benetton che vede l'entrata in Pro 14 come socio della FIR ovvero la Federazione Italiana Rugby. Questo porterà benefici e vantaggi economici in termini di prestigio alle squadre italiane. Benetton in primis come ha dichiarato e come ha detto il DS Pavanello. Un grosso passo avanti ha dichiarato il direttore sportivo Pavanello del Benetton perché darà ampie garanzie per il futuro. Intanto la squadra inizia la sua quarta settimana di allenamenti. Ieri o nel weekend c'era stata una pagina della Gazzetta con un'intervista a Marco Bortolami, tra l'altro tecnico del Benetton, che andava a spiegare come si vorrebbe il nuovo rugby, cioè si vorrebbe eliminare parte degli scontri fisici, si vorrebbero eliminare parte delle mischie, parte delle touche dove si va a contatto più spesso e si vorrebbe velocizzare il rugby. Bortolami ha anche sottolineato che queste non sono delle grossissime novità perché già se ne parlava un paio d'anni fa e poi è rimasto tutto nel cassetto perché non c'era stato, fortunatamente non c'era il problema del Covid-19, ma queste nuove regole che potrebbero essere inserite dicono che potrebbero anche essere accettate da questo sport che forse perderebbe qualche cosina. Vi dicevo quarta settimana di allenamenti per il Benetton, ancora non possibili contatti e quindi preparazione individuale che riguarda corsa ed aspetto fisico. Cambiamo sport, dicevano che era quello più a rischio contagio, poi si sono arrabbiati quelli del volley giustamente, insomma perché si era sparato un po' nel mucchio. All'imoco, l'imoco volley conegliano, dopo il rompete le righe si parla di mercato con già alcune pedine confermate, riconfermate del sestetto titolare, Voloch, De Gennaro e si attendono adesso Egonu e si attendono adesso le altre, ci sono stati anche dei nuovi arrivi, la francese Loulou, Jacqueline, eccola qui, e il libero Caravello che è arrivato dal Martignacco. Il presidente Carbellotto in una intervista in queste ore ha confermato la pericolosità delle squadre turche e russe perché, ha detto, hanno possibilità economiche gigantesche. Porte chiuse, continua Garbellotto, per un paio di mesi si può stare bene, dopodiché sarebbe veramente un problema legato agli sponsor. Conferme anche in casa Motta di Livenza, sempre per quanto riguarda il volley, questa volta maschile, la A3 di Motta di Livenza, avrà in panchina ancora il tecnico, lo vedete in foto, Pino Lorizio. Ora si lavorerà sul gruppo da rinforzare per ben figurare in questo difficile torneo di A3. Nel basket trevigiano della TVB De Longhi arriva il primo acquisto e c'è il comunicato della società, in forco gli occhiali per reggervelo, il primo acquisto è l'ala guardia Jeffrey Carroll che vedete, 26 anni, statunitense, lo scorso anno in serie A2 con Bergamo, è nativo della Virginia, è nato ad Alexandria il 6 novembre del 1994, Carroll a 198 cm per 99 kg, è un esterno con punti nelle mani, predilezione per il tiro da tre e il gioco in campo aperto. Un giocatore atletico capace di attaccare il canestro e di mettere energia in difesa, offrendo anche un sostanzioso aiuto a rimbalzo, quindi un nome nuovo se vogliamo, però un nome in espansione perché chi l'ha allenato a Bergamo ha detto che questo è un giocatore interessantissimo e speriamo che Gracis e la TVB abbiano pescato bene. Basket da parte con il calcio, il calcio locale, trevigiano, regionale se vogliamo, con alcune società che si stanno già muovendo sul mercato per prepararsi al prossimo campionato della stagione 2020-2021, che purtroppo ancora non sappiamo quando partirà, si parla di fine settembre, inizio ottobre addirittura, quindi vedremo se poi queste date saranno confermate o meno, speriamo anticipate. La Liventina, per rimanere nel campionato di eccellenza che è quello che abbiamo seguito nella stagione quest'anno, ha confermato un nuovo direttore sportivo che è Toniutto, che vedete, che si porta l'allenatore Bodo che erano entrambi a Montebelluna, non è stata una grande annata né per Toniutto né per Bodo a Montebelluna che sono stati costretti appunto, sono stati esonerati e quindi adesso rientrano, Toniutto tra l'altro in un ritorno a Motta di Livenza aveva già allenato a livello giovanile. Andiamo in serie D dove arriva la conferma di Carmine Parlato al Trento, era una delle panchine più importanti e più papabili per molti tecnici, c'è la spuntata Carmine Parlato che ritorna quindi in Italia o meglio nel nord Italia, ritorna al Trento dove in corsa c'erano questo signore che è Tiozzo che sembra vicino al Pineto una squadra dell'Abruzzo e Andreucci, Antonio Andreucci che potrebbe quindi rimanere nel campo d'Arse, con molti lo davano per le amicizie che aveva con la dirigenza del Trento appunto a Trento, così non è stato. All'eclisse invece ecco il Presidente, confermato tutto lo staff tecnico con il secondo tecnico Sarcinelli, il primo è Stefano della Bella, il secondo Sarcinelli ha delle richieste dal San Fior quindi ancora non ha detto sì alla formazione del quartiere del Piave. Infine Agostino Bottega lascia per motivi di lavoro il San Martino Colle Umberto. E con questa notizia termina qui il nostro appuntamento con l'informazione sportiva, ricordatevi scaricate la nostra app, eccolo lì downloadappvenetoglobe.com, facilissimo per Android e per Apple, avrete quindi le informazioni così ad un passo velocissimo sul vostro smartphone e sul vostro cellulare. È tutto, vi lascio e vi auguro una buona serata, a domani.